Attenzione! Prima di iniziare ci teniamo a precisare che non siamo preparatori atletici. Gli esercizi mostrati in questo video sono quelli che eseguiamo nei nostri allenamenti e possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze. Eseguiteli con accuratezza in modo da non arrecare inutili danni al vostro corpo. R.A.G. R.A.G. V.A.G. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo tutorial sul backflip. Ci tengo a precisare come sempre, non buttatevi mai di testa per fare cose che non sapete fare, quindi guardate bene tutto quanto, non saltate le spiegazioni, vi prego, non andate direttamente al movimento e se riuscite cercate anche qualcuno con cui farlo per farvi fare l'assistenza. Vedremo tutto passo passo, non rompete i... Coglioni! Come sempre, prima di effettuare delle prove o qualsiasi tipo di allenamento, dovete scaldarvi. Quindi stretching, potenziamento e tutte quante quelle cose che già sapete, però io ve le ripeto perché voi non le fate. In più, in questo video è importantissimo saper fare il precision, dovete avere una buona elevazione di gambe e ora capirete anche il perché. È proprio tutto qua. Saltando dal basso verso l'alto farete i primi movimenti, le prime prove, la prima preparazione del backflip. È proprio qui il bello, il backflip proviene dal precision, quindi non è altro che un salto con una rotazione e poi diventa un altro salto, precision. Quindi dovete saltare molto ma soprattutto ruotare velocemente. E ora vedremo come fare. Un modo corretto per effettuare una caduta, quindi controllare un atterraggio dopo una rotazione troppo alta, può essere la capovolta. Ovviamente non in avanti ma indietro perché il backflip ha un movimento all'indietro, si atterrerà e si cadrà di culo. Per proteggere questo povero gluteo si andrà a fare una capovolta all'indietro o anche un rolling. Mi sa che dovete ripassare un po' di roba prima di fare questo video, ve? Mi sa proprio che sì. Per chi ne ha la possibilità, effettuate le prime prove su un cubo da volteggio. Magari le trovate nelle palestre da ginnastica artistica o quelle attrezzate per effettuare acrobatica. I primi salti saranno verso l'alto, date delle schienate leggere, magari gambe accovacciate, oppure se avete la possibilità di metterne più di uno, dovete più o meno arrivare all'altezza delle spalle, sotto le spalle e sul petto. Effettuate grandi prove in questo caso, l'elevazione è molto importante e tutto sta nella spinta di braccia come nella esplosività di gambe. Dovete cercare innanzitutto non di caderci dal basso, ma effettuare la classica parabola e poi... Esatto, questo. Bravo cubo. Potreste utilizzare anche la stessa struttura per aumentare la spinta del frontflip. Come ho anticipato, rimediate qualcuno della vostra stessa altezza che vi assisterà durante la rotazione. Tipo me! Me sa de no. Perché scusa? Che male c'è? Se non trovate nessun altro, trovate una soluzione. Pazzo de merda. Questo esercizio vi servirà per comprendere come il corpo si dovrà elevare prima della rotazione. Quindi, con le braccia e con le gambe, contemporaneamente, vi spingerete verso l'alto, cercando di superare l'assistente. Per quanto riguarda l'assistenza, dovete sostenere ed accompagnare la persona che sta saltando, senza farvela cadere addosso, né tantomeno bloccando la sua rotazione. Fatelo poggiare sulle vostre mani e sollevate il suo corpo se vedete che la spinta non è abbastanza. Può sembrare una cosa stupida, ma se sistemerete bene il corpo di chi sta saltando, imparerà molto più in fretta il salto. Mica così, che era tutto storto. Questo. Dritto. E lo riaccompagnate giù. Bella. Io ve ne vado. Ciao. Vediamo ora come poggiare i piedi prima di saltare. Consiglio di non stare mai troppo sulle punte e neanche di stare con i talloni all'interno dell'ostacolo. Una via di mezzo, in modo che riuscirete a molleggiare e a capire bene il punto di equilibrio prima di partire. Prestate anche particolare attenzione alla direzione che le vostre ginocchia prenderanno da piegate e le spalle non dovranno cadere, ma spingere verso l'alto. Rimediate adesso un ostacolo semirigido e soprattutto stabile, in modo che non cadiate prima di partire, perché deve essere molto importante... Ecco, appunto, già abbiamo cominciato male. Sì, abbiate questo. Cercate di metterlo in sicurezza, con qualsiasi cosa abbiate a disposizione. Una volta risolto il tutto, prendete posizione, trovate il vostro punto di appoggio corretto, quindi di equilibrio, e pensiamo alla rotazione, senza dimenticare il materasso, e se ce l'avete, il vostro assistente. Lavatevi bene le mani... Perché? ...e assicuratevi di avere una presa bella salda, per esempio prendendolo dai pantaloni e non dalle mutande. Ti piacerebbe. L'altra mano deve stare vicino ai polpacci, per accompagnarlo nella rotazione nel caso non spingesse abbastanza. La mano che tiene i pantaloni deve sostenere il bacino e permettergli di girare, mantenendolo però sulla stessa altezza, senza farlo cadere. Non lo strattonate mai, non lo spingete, non ostacolate le braccia, soprattutto. Aspettate un cenno e accompagnate con leggerezza il salto. Per effettuare questa assistenza bisogna ovviamente sapere cosa si sta facendo e conoscere un minimo la rotazione e il movimento del backflip, altrimenti non sarete in grado di aiutare la persona che sta saltando. Una volta che vi sentirete sicuri potrete anche continuare da soli, però mi raccomando ragazzi fate tante prove e puntate a salire in alto. Lo scopo del backflip è far arrivare le ginocchia all'altezza delle spalle per poi sostituirle, quindi anche se cambierete ostacolo e vi consiglio soprattutto di farlo da soli prima su cose morbide o sempre sotto la tutela di qualcuno che vi stia vicino, anche solo che vi dia uno sguardo, appunto puntate le ginocchia verso le spalle e sostituitele. L'esplosività è l'essenziale, ma soprattutto servirà a fare tantissime prove, quindi non si parla di avere una grande conoscenza ma di avere una grande esperienza e tutto sta nella pratica. Prima di portarlo sul duro ricordate sempre di riposarvi e di non effettuare mai esercizi stressanti per il vostro corpo perché potrebbe essere distruttivo e potreste anche cadere e non riprendere più il movimento, ma cercate soprattutto di accompagnare la salita. La chiave per effettuare un buon backflip sarà salire molto, effettuare la rotazione al massimo punto di salita e poi riscendere, non buttarvi all'indietro cercando di girare come un sacco di patate. Prima di portare questo movimento sul duro vi consiglio sempre di fare tantissime prove, soprattutto su ostacoli morbidi tipo gli step che sono diciamo semi rigidi e magari per giocare farlo sui tappeti elastici, quindi i tappetoni, quelli grandi dove fare appunto imparare la rotazione per controllarlo che poi in futuro vi potrà anche servire per portare il backflip, per far diventare il backflip il movimento del gainer perché alla fine lo stesso identico movimento cambia la direzione del corpo. E niente, come sempre, mo mi asso e succede un casino. Casi... Non è difficile. Non è difficile.